Non ha molta voglia di studiare, è intelligente, è spiritoso. Dovresti dirgli? Che cosa? Sono suo padre? Sei impazzita? Interrogazione di storie di ieri? Sono sciollata a Villa Panfini. Pischelli? Sono apprezzati Pischelli e un po' da Froci. La logica mi sfugge. Ma! Come sai? Io tutto a posto. Ma dimmi un po', com'è se o male? Spaccami! Sì, io so bene, l'ho detto. Eh? Sì, la scolla è tutto a posto. Sì, sì, scialla, ma li faccio i compiti. Con Bruno ci sto bene, è simpatico, sì. L'apparecchio lo metto. Ah, ma però non ti accolgo là. Dimmi qualcosa pure te. Eh? No, non voglio che torni, ma che senti io? Sì, va bene, mi manchi, ma non è che... Eh? Ah, ma però non ti sento. Dai, se ribecciamo. Sì. Sì, ti voglio bene. Sì, ciao, ciao. Di mare, si accolano la cibra. Mi sento a posto, mi sento. Mi sento a posto, mi sento a posto. Mi sento a posto. Masha, la rivelemono squilla. Ma è scialla, non ha suonato la sveglia. Ma è scialla, non è una vorica aspetta. Ma è scialla. Non c'è problema, ci penso domani